ciao questo nuovo video che solito che faccio sui film che riesco a guardare che mi sono andato a vedere la società della neve che ho visto che sono che come si dice che anche se un film spagnolo che come data d'uscita risulta il 22 ottobre del 2023 ma in italia sicuramente magari sono come i film sono come i film magari quelli americani che arrivano sempre quei due tre mesi dopo però ho visto che questo film lo davano è più che più che altro su non è uscito nemmeno così dice al cinema ma hanno fatto vedere direttamente su sulle piattaforme di mai più che altro mai chi amare l'abbonamento su mai su netflix e magari è riuscito a guardarlo mai subito appena era uscito ma è più che altro morrei questa qua e questo film è la società della neve anche se è un film che due due ore e 25 di film ho visto che e magari come come si dice che come film essendo mai un come genere tocca morrei come avventura thriller però ho visto che come come trama così ea e anche come ha fatto magari il film mi ha tipo piaciuto che parla più che altro morrei di questo ma è la trama di questo film parla più che altro morrei di questa qui si dice di questa squadra di rugby delle delle uguaina questa squadra di rugby ruguayana che 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 come si dice prende che deve prendere questo prezzo come si dice che deve partire si sta preparando per partire magari per il cile ed è il 13 ottobre del 72 che in tutto in tutto in questo aereo ci sono ci sono come si dice che 40 persone tra cui si aggiungono altri altri 5 membri ma è dell'equipaggio che in questo durante il viaggio proprio sull'aereo e per la coppa delle forti ma è delle forti ma è turbolente il e qui si dice il questo aereo perde il controllo e per e precipita magari nel cuore delle ande che che questi persone che erano sull'aereo questi e questa squadra di rugby e con l'equipaggio devono affrontare come si dice una volta attrati che sono in mezzo proprio in mezzo alle ande devono come si dice devono cercare di rimanere in vita in mezzo magari a delle condizioni climi climatiche che sono mai che essendo mai che la temperatura lì magari di notte scende anche meno 30 gradi che devono cercare di sopravvivere e riuscire magari a nello stesso momento fare sempre magari specie gioco ma è un po gioco di squadra per riuscire magari a rimanere vivi nel stesso momento rimanere vivi e anche magari cercare di cercare aiuto per salvarsi che anche nel passare dei giorni magari anche la parte dei viveri del cibo cominciava anche a scarseggiare e finisce magari che alla fine maria del film come si dice che il governo maria a poi a certo punto aveva pure interrotto mai le ricerche sopravvissuti devono contare soltanto mai sulle loro forze 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 non riescono come si dice lo stesso maria a chiedere magari non tutti alla fine del film magari riescono lo stesso maria a chiedere magari un aiuto e torna e magari e tornare magari nella loro mia vita di sempre che più che altro magari proprio la trama di questo di questo film e questo qualche più che altro è una specie di oltre che avventurare le dove era più creato anche magari di cercare di sopravvivere in queste temperature della montagna in mezzo alla neve con questo in mezzo maria al gelo che ho visto che magari ne compreso come ha fatto mora il film così e come è un o mai come hanno mai come si dice fa fatemare le scene del film ho visto che mi ha piaciuto che ho visto che qua in italia risulta che è arrivato vorrei già nel 2024 che sicuramente magari anche se magari in spagna è uscito subito che è ancora il 2023 però come ho detto vorrei prima ma lei qua qua in in italia si deve magari aspettare sempre qualche qualche mese prima che arriva che anche ma ecco come film due qui 144 minuti che anche come come durata ma lei anche come durata di film e come fatto a molti ma lei è più lungo però come cosa ma lei ci poterà ma lei anche stai che non è nemmeno ma lei come ha girato ma lei non è non è mai uno di quei film che magari ti poi magari ti poi magari annoiai o qualcosa del genere che riesci magari a essere concentrato per tutta magari la durata del del film che magari lascio logicamente ma che quando faccio questi video sui su sim e il video e metto il video e tra è nel casse anche delle persone che hanno partecipato a questo film e maria è che la trova sotto o mai in maria in descrizione però sicuramente ma è a chi magari a chi piace marei questo questo tipo magari di un po avventura thriller che può essere marei giusto certi punti vista anche drammatico marei sicuramente è uno di quei film magari sicuramente da da consigliare che come fatto marei come ho detto prima vorrei su certi tipo di trama così magari può anche meritare e niente che quello che potevo dire su questo film marei l'ho già detta a massimo sicuramente magari ci vediamo magari più avanti con i miei soliti video magari che porto marei sul sul marei sul mio canale e niente per adesso vi saluto vi saluto ciao 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 ciao